Ragazzi voi dite quello che volete ma i 275 sono un must, io qui vi propongo una super chicca, sono due amplificatori finali, entrambi terza serie, lo vediamo che sono una delle prime serie dalla morsettiera che accetta ancora solamente il cavo spellato, questi sono finali monofonici, possono essere sia messi in stereo che in mono come in questo caso, che erogano in questa configurazione 150 watt per canale, 4KT88, guardate che trasformatorazzi di uscita e qui abbiamo un pezzo di storia. Ditemi quello che volete ma i 275 per me suonano da paura e lo dico da un non troppo amante delle valvole, il prezzo è 3700 euro a unità, si possono acquistare sia in coppia sia singolarmente, l'abbinata ad esempio con una Tannoy, in questo caso abbiamo le Kensington, è davvero al bacio, bellissima. Li trovate in Veneta qui nel nostro negozio, abbiamo anche i ponticelli per metterli in mono, tutto incluso e noi vi aspettiamo al prossimo video, se lo volete acquistare basta andare sul nostro sito.